Ancora buonasera da Reazione a Catena, siete pronti a giocare con noi? A cercare l'ultima parola? Partiamo da salute. R.I. O finale e il terzo de me. Allora, salute può essere quando... Allora, è tanto la salute fisica, quindi stare in salute. Ok, poi la salute quando si brinda, vabbè, la salute. Quando si fa lo starnuto dici salute, quindi hai tipo raffreddore, starnuto. Esatto. Oppure, no vabbè, un saluto no, cioè perché salute. Ritratto, no, quello è il ritratto no. Ritratto della salute. Ritratto della salute. Ritratto della salute potrebbe essere quando una persona sta tanto bene, è il ritratto della salute. Però è già prima salute in quel senso. Vabbè, comunque. Sì, vabbè, vendere. No, una cosa come riconoscimento? No, forse no. No, no. È meglio... Col brindisi faccio qualcosa. Col brindisi è una festa, quindi fai un... Rito? Rito, però. Anche con una lettera sola, no? No, rito... Beh, che certo può essere comunque rito. Rito e risalute? No. Se no, salute, quando altro lo dici? Salute è una cosa dell'esercito? No, no. Rinforzo, però no, rinforzo, però... Rinforzo, però... Rinforzo... Allora, teniamo ritratto, rinforzo, salute... Ritratto... Quindi o salute è intesa come quando uno, diciamo, è e poi ne facciamo salute. Oh, uno che sta bene. Stai in salute, quindi stai rilassato. Riposo. 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 Salute... No, 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 no. No. No, non mi... Risvolto? Risvolto. Risvolto della salute? No. Qualc'altro significato di salute? Qualc'altro significato di salute? Qualc'altro significato di salute? Starnuto. Stop al tempo. Volete provare subito Emanuela o comprare il terzo elemento? No, compriamo il terzo elemento. Allora dimezziamo. Abbiamo sul tavolo 11.250 euro. Andiamo a vedere se il terzo elemento va a far preferire una delle parole che avete pensato o vi porta da un'altra parte. A casa voi a quale parola state pensando? Scopriamo il terzo elemento. Uguale. Ritratto. Può essere uguale. Il ritratto è uguale. Sì, ma non fosse... Ok, allora potrebbe essere uguale anche... Abbiamo detto riposo, uguale riposo, uguale salute. No, uguale riposo no. Non c'è senso. Rito, rito, uguale rito. Uguale rito, no, no. Un rito uguale. Uguale anche come simili, quindi... Gemello, quindi è come... Riflesso. Riflesso. Riflesso della salute, salute di riflesso. Riflesso della salute. Aspetta, forse è la salute... Di riflesso, no. Un riflesso con salute non mi viene. Forse non lo sappiamo noi, riflesso e salute. Però anche ritratto, perché il ritratto è uguale a te. Allora, il ritratto della salute... Ci sta bene. Ci può stare. Ci può stare. Riflesso... Il ritratto è comunque quando disegni, fai un ritratto, che disegni... Ok, però uguale è un gemello, quindi è anche un... O anche un segno, un segno uguale però... È uguale, minore, maggiore? Uguale. No, no. Risultato, risultato. Risultato. Ci siamo. Allora, Emanuela, quale parola vi giocate? Ritratto. Togliete le cuffie. Ritratto come lo leghiamo? Con salute. Allora, essere il ritratto della salute, cioè avere un viso riposato, insomma, sano. E il ritratto è uguale alla persona a cui lo si fa, appunto, quindi è... Quali altre parole avevate? Allora, riflesso, perché è un riflesso uguale. O anche risultato, perché è uguale risultato. Rito. Ho detto anche rito, no? Rito, sì. Salute come brindisi, che è un rito. Rito. E il rito si ripete sempre uguale. Queste sono le parole con le quali avete giocato. Queste sono le parole che vi sono venute. Avete scelto ritratto. Quello che posso dirvi è che tra queste parole c'è la parola che vale 11.250 euro. Andiamo a scoprirla insieme. E allora, la parola che lega salute e uguale è... E' ritratto! 11.250 euro per il Taracini. Andiamo, dai! Ciao, complimenti.